iPhone 11 ragazzi, eccolo qui, in realtà non è per me ma è per mia sorella L'iPhone 11 ragazzi, quello base, non l'11 Pro e nemmeno l'11 Pro Max Un modello raga che secondo me quest'anno andrà a ruba 839€ di telefono con la doppia fotocamera dietro Oggi lo proviamo, in questo video farò qualche scatto, qualche video in 4K Ma soprattutto voglio fare un test velocissimo su Fortnite Mobile Vedo che già non mancano le ditate dietro, comunque ragazzi eccolo qui l'11 Un telefono ragazzi che costa più di 1200€ nella vita non lo comprerei mai Questo invece è il modello base, meno male che Apple quest'anno ha deciso di tenerli un prezzo diciamo accettabile Le ditate dietro purtroppo già si vedono, noto già che ci sono un po' di ditate come potete vedere da questo riflesso Raga lo acceniamo Il design ragazzi mi piace, anche se ancora non vado convinto per questo bordino attorno nero Ma soprattutto la grandezza, anzi la larghezza di questo notch E noto anche che il telefono è bello cicciotto È bello spesso, anche se non sembra Guardate quanto è spesso il telefono ragazzi Sembra di no ma è davvero, davvero cicciotto Ma in fin dei conti ci sta Il design della fotocamera in realtà raga non lo so Vi dico la verità non mi convince Ho visto di peggio anche in telefoni che ancora devono uscire Non lo so ragazzi, si stanno tutti un po' impuntando sul creare un design quadrato con la fotocamera Non lo so, non mi convince molto Preferisco ancora la fotocamera verticale come in questo caso Ragazzi proviamo a fare un paio di test con la grandangolare, con la fotocamera Del nuovo iPhone 11 Soprattutto la parte in cui si può zoomare mentre stiamo facendo un video Senza dover stoppare e riprendere con una nuova clip Facciamo una brevissima configurazione e poi lo proviamo Attaccandolo a questo, ovvero a Delgato per provare Fortnite sul telefono Mi aspetto che con il chip A13 montato su questo telefono Giochi abbastanza pesantini come Fortnite Non sprechino subito la batteria Pesa davvero poco raga Questo iPhone 11 pesa veramente poco Sembra di avere in mano un giocattolino, vi dico la verità Ovviamente le cuffiette con il cavo Carica batterie ovviamente non da 18W come per l'iPhone 11 Pro e il Pro Max E ovviamente il cavetto Lightning Ho appena scaricato i giga necessari per Fortnite che sono tipo 5 E raga attenzione, si è già scaldato il dispositivo ragazzi Ok, colleghiamolo al nostro HDMI con la presa Lightning Ok ragazzi, eccoci qua, facciamo un test velocissimo in modalità singola Ok, sta andando via il calore del dispositivo Andiamo, strana sta cosa Mentre scaricava ha scaldato il telefono Mentre adesso che siamo in game Non è più caldo Andiamo ragazzi, andiamo direttamente in game Proviamo a fare un piccolissimo gameplay Sembra ok fluido, vediamo gli FPS Soprattutto, 30, nooo L'iPhone 11 ragazzi non arriva a 60 FPS Il Pro Max, molti dicono che arriva a 120 In realtà questa cosa è da scoprire Quindi magari vi farò sapere qua sotto con un commento Che a 60 sicuramente dovrebbero arrivarci Poi magari vedi che non ci arriva Non lo so, vi farò sapere Il mio iPad Pro come sapete è sempre fisso a 60 FPS Vi aspetto ancora live ragazzi Anche stasera su Twitch con Aliens Squad Con un gruppo di Pro Player Oggi è la giornata 2 quindi non mancate Ci buttiamo velocissimi ragazzi Andiamo verso Palmetto Facciamo una cosa velocissima Sembra abbastanza fluido Facciamo tipo uno swap velocissimo La cosa che mi interessa di questo dispositivo ragazzi È vedere come si comporta il chip A13 Rispetto all'A12 dell'iPhone XR Visto che questo telefono è un upgrade Anche se leggero dell'iPhone XR Giocare al Fortnite quindi con un chip A13 Potrebbe significare che la batteria duri di più Ecco perché ragazzi sono interessato a provare Fortnite su questo dispositivo con il nuovo chip Allora Premato che da telefono non gioco mai a Fortnite Gioco sempre dall'iPad Ci prendiamo questi cildini Vediamo di farci magari una kill Vediamo se ce la faccio Poi raga fatemi sapere se qualcuno di voi ha comprato il dispositivo Se lo comprereste mai Se spendereste mai ragazzi più che altro 1200 euro per un telefono come quello ad esempio Uh A questa kill Come il Pro Max Che a me in realtà interessa tanto Ma per il momento direi proprio di no Visto che costa veramente tantissimo Intanto saliamo con le costruzioni In questa maniera Ci prendiamo l'u di questo tizio Che abbiamo fatto fuori Easy peasy Con la vitrallietta Ci prendiamo questo Le munizioni e via Giocabilità niente male I colori sono un po' così Ma è solo a livello software Dal pc in realtà Non è così che si vede Sul telefono ovviamente Quindi è una cosa Che devo poi fixare io dal computer Andiamo avanti ragazzi Andiamo avanti Vediamo dove sta questo nemico Uh sta di sotto Dove sta Vieni qua Vieni qua Vieni qua che facciamo il test Ancora Dai Ma dove è andato questo Oh Insomma ragazzi Not bad Not bad Mi piace un sacco Come sapete giocare Su questi dispositivi mobile A qualsiasi gioco per il telefono Diciamo che se uno Non ha mai avuto un iPhone Questo ragazzi Lo può benissimo prendere Perché è davvero Niente male come dispositivo Soprattutto se è il vostro primo Ragazzi Telefono della Apple Questo è davvero not bad Mentre se avete già avuto Telefoni precedenti Come l'XS O magari L'XR Non serve assolutamente Comprare Se non magari Per usare La fotocamera E quindi andare sul Pro E sul Pro Max Cose che già ho detto Raga nel video Precedente Sulle mie opinioni Riguardo a questo nuovo Dispositivo Il Pro e il Pro Max Raga Fotocamera Come sapete È la grande novità Ed è davvero tanta roba Infatti vorrei tantissimo Poterlo provare anche io E farci un video a parte Dove faccio magari anche Dei video con la nuova fotocamera Allora Aia mi fanno male In questo caso ragazzi Il notch Come state guardando Copre Copre un pezzettino Dello schermo del gioco Ma ripeto Non vedo l'ora di vedere in futuro Un iPhone che sia Full schermo Senza alcun bordo E senza alcun notch Ma è una cosa che secondo me Apple si sta tenendo Per Un prossimo anno Magari l'anno prossimo Ci sta Giocare un po' Con il marketing E con le tempistiche Ma soprattutto Con le altre aziende Di telefonia Ultimissima prova Gameplay E poi mi raccomando Fatemi sapere La vostra considerazione Scendiamo ancora qui Verso palme acquatiche Uh Mi sparano Cattivissimi Vediamo se cade Bravo Caddi giù Olè Ok Un iPhone base Che con il nuovo software iOS 13 Si sposa Secondo me Benissimo Quindi un telefono Che può davvero Funzionare Per chi magari C'ha un iPhone Molto vecchio Oppure È un nuovo utente Di Apple Ragazzi iPhone 11 Proverò l'11 Pro Max E spero In un prossimo video Detto questo Aspetto la vostra qua sotto Dite un po' Un vostro primo parere Sicuramente qualcuno di voi Lo proverà anche Nell'Apple Store Ragazzi Grazie per La visione Promosso anche per Fortnite Buono Ciao ragazzi